da domenica a 17 gennaio e sino a 5 marzo la Puglia è in zona arancione vediamo allora insieme nel dettaglio cosa si può fare cosa invece non è consentito la zona arancione è a livello di rischio medio alto di vieto di circolazione dalle 22 alle 5 salvo per motivi di salute esigenze lavorative o comprovate necessità di vieto di ingresso uscita dalla regione e di vieto di circolazione in un comune diverso da quello di residenza salvo per motivi di salute esigenze lavorative comprovate necessità o per entrare nel proprio domicilio assicurare la didattica in presenza o suffruire di servizi non presenti nel proprio comune gli spostamenti sono consentiti dai comuni fino a 5 mila abitanti per una distanza massima di 30 chilometri tranne che verso i capoluoghi di provincia spostamenti consentiti all'interno del comune verso un'abitazione privata una sola volta al giorno per un massimo di due persone oltre figli minori di 14 anni persone con disabilità o non autosufficienti chiusura degli esercizi commerciali all'interno di centri commerciali assimilabili nei giorni festivi e prefestivi salvo farmacie parafarmacie generi alimentari tabacchi ed edicole chiusura di palestre piscine centri benessere centri termali e impianti sciistici consentita l'attività motoria all'aperto presso centri sportivi e attività riabilitative e terapeutiche sospensione delle prove concorsuali prese elettive scritte pubbliche e private sospensione di eventi congressi spettacoli dal vivo discoteche regolare attività dei servizi alla persona quindi barbieri parrucchieri ed estetisti aperti chiusura di musei cinema teatri centri sociali e ricreativi chiusura di sale giochi sale scommesse bingo e casino anche all'interno di locali adibiti ad attività differente regolare attività di edicole tabaccai farmacie parafarmacie e generi alimentari corsi di formazione pubblica e privati solo a distanza salvo per medici e attività di formazione ministeriale raccomandazione di ricorrere al lavoro agile smart working nella percentuale più alta possibile mezzi di trasporto locali e regionali al 50 per cento della capienza attività di ristorazione consentite solo con consegna a domicilio e fino alle 22 asporto divieto di consumazione al tavolo al banco o nelle adiacenze del locale per i bar asporto fino alle 18 regolare attività per le menze e la somministrazione di cibo e bevande in autostrada ospedali e aeroporti oggi la percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati comprensivi però della quota dei tamponi di controllo e del 10,59 per cento di tre punti inferiore a quella della scorsa settimana 76 nuovi casi positivi in provincia di brindisi rispetto ai 52 di ieri 10.600 test effettuati di cui 1123 sono risultati positivi per una percentuale del 10,5 mentre 15 sono i decessi registrati nella regione di cui tre a brindisi i nuovi casi positivi 76 in provincia di brindisi 79 a lecce 239 a taranto 406 a bari 217 a foggia 100 nella bat da oggi anche la puglia un nuovo ospedale interamente dedicato alla pandemia covid creato nell'area della fiera del levante in 45 giorni sono 154 posti letto oltre a due sale operatorie una sala tac e un laboratorio d'analisi gestiti dal policlinico di Bari l'entrata in funzione è prevista per i primi giorni di febbraio questo è un luogo multifunzionale dove sono insieme terapie intensive e area medica nessuno ha fatto questa scelta noi l'abbiamo fatta perché in questo modo riusciamo a gestire tutti i gradi della gravità della malattia perché questa è una malattia che non sempre ringraziando il dio richiede un ricovero ospedaliero e quindi qui si gestisce tutta la gradazione è un luogo a pressione negativa quindi è un reparto di infettivologia è un reparto di pneumologia è un reparto di medicina è un reparto di terapia intensiva e subintensiva riusciamo a gestire tutto con quella flessibilità che un maxi centro per le emergenze richiede ci sono anche alcuni sanitari positivi nella casa circondariale di brindisi dove nei giorni scorsi erano risultati contagiati tre detenuti e un agente penitenziario le aree del carcere sono state sanificate si sta procedendo alla vaccinazione del personale sanitario non positivo e degli agenti bloccati gli ingressi in carcere dopo che proprio un nuovo detenuto asintomatico avrebbe innescato il contagio nonostante fossero stati rispettati tutti i protocolli di quarantena iniziale tre i decessi registrati in provincia di brindisi due all'ospedale per rino uno nel reparto di pneumologia un paziente di 93 anni e l'altro nel reparto di malattie infettive un paziente di 88 anni un decesso a ostuni nel reparto di pneumologia un paziente di 83 anni la situazione dei ricoveri che cominciano ad aumentare 41 al perrino di cui 20 malattie infettive 15 in pneumologia e 6 in rianimazione 27 a ostuni di cui 17 in medicina interna e 10 in pneumologia 18 i post covid 6 a mesagne 8 a ceglie messapica e 4 a cisternino sono 141 gli os di brindisi che rischiano il posto di lavoro il 31 gennaio infatti scade il contratto e non si intravede alcuna proroga nonostante siano impegnati tutti sin dall'inizio della pandemia e qualcuno abbia addirittura contratto il coronavirus questa mattina hanno protestato all'ingresso dell'ospedale per rino con il sostegno della cgl chiedendo alla regione impegni precisi per la proroga del contratto di lavoro e da domenica iniziano le seconde somministrazioni per i 505 operatori sanitari pugliesi che sono stati vaccinati lo scorso 27 dicembre durante il vday europeo e a seguire saranno richiamati anche gli altri medici e infermieri vaccinati nei giorni successivi la seconda dose infatti va inoculata a distanza di 21 giorni dalla prima